Non riusciva più a riprendere il volo dopo essere caduta per terra tra dei villini. La poiana che qualche giorno fa è stata liberata e remessa nel territorio naturale a seguito di apposita autorizzazione dell'assessorato regionale all'agricoltura ripartizione fonistico-venatoria di Agrigento. L'esemplare, dopo la caduta, forse a causa di un incidente di traiettoria, è stata immediatamente soccorsa da alcuni residenti della zona di Pian del Lago. Le famiglie Lombardo e Bennarto hanno subito contattato le autorità. Allertati i vigili del fuoco e dunque anche le guardie venatorie e zofile del WWF Nisseno, la poiana è stata presa in cura dai volontari esperti del nucleo provinciale di vigilanza del WWF e poi sottoposta a visita dal veterinario Andrea Cortese. L'esemplare, in buone condizioni di salute, il giorno successivo, come previsto dalla legge regionale sulla tutela della fauna selvatica, è stata consegnata al Centro Recupero Fauna Selvatica di Cattolica Araclea, gestito dall'associazione Caretta Caretta, per essere curato, posto sotto osservazione e poi infine liberato. Il WWF di Caltanissetta, assieme alle sue guardie venatorie e zofile volontarie, rimane a disposizione della cittadinanza e delle istituzioni nella collaborazione, come in questo caso, per la tutela e la salvaguardia della fauna selvatica. Questo servizio di soccorso e di recupero degli animali in difficoltà viene svolto ormai da anni a titolo volontario e gratuito da tutti gli attivisti e le guardie del WWF e si basa essenzialmente sulla collaborazione e sulla segnalazione dei cittadini, di quelli più sensibili alla tutela della natura. Quindi, ancora una volta, come WWF rinnoviamo l'invito ai cittadini a segnalare immediatamente casi di fauna selvatica ferita o in difficoltà, contattando le istituzioni competenti o anche i volontari del WWF, associazione che è rintracciabile su tutti i social network e agevolmente con una semplice ricerca su internet.